Questo evento è stato proprio voluto fortemente dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione di Foggia, del quale mi onoro di essere nella Presidente. Si parlerà di tutte le vittime pugliesi in particolar modo. Cosa sappiamo degli anni del terrorismo in Italia? Anni Bui, libro del giornalista e storico Salvatore Lordi, è un diario intimo e sconosciuto al nostro paese, dove molli, figli, fratelli dei tanti poliziotti, carabinieri, finanzieri e ufficiali dell'esercito, ammazzati per mano dei terroristi, narrano con una semplicità disarmante le loro vite lasciate in sospeso. Il libro è stato presentato nelle scorse ore presso la sala del Tribunale di Palazzo Dogana Foggia, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio. Che di buia non c'è nulla, ci sono delle storie bellissime di questi uomini in divisa, bui perché chiaramente vivono in un momento buio, ma credo che le storie che sono raccontate lì hanno una delicatezza, una dolcezza e credo, secondo me, dovrebbero essere raccontate più che altro ai ragazzi e quindi alle scuole. Buia probabilmente è un momento della nostra vita, quella che è vissuta in questo libro. C'è però, come possiamo dire, il riscatto di questi ragazzi. Arriva non certamente da me, arriva da questi familiari delle vittime che in questo buio hanno voluto, è così, raccontare quella parte di luce che resta ancora nelle loro case. Questo sì.